Eteum laudamus, te dominum compitemur, Eternum Padre, omnis terra veneratum, Tibi omnes sante di, Tibi genie et universe potestates, Tibi deum liberes serati, incestabibus en proclama. Sanctus, 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 Dominus, Deus, Abaot, Pleiisus, Tei eterna, Maestatis, Glorie Tue, Tei gloriosus, apostolorum conus, Tei profetarum, laudabilis numerus, Tei gloriosus, Tei gloriosus, Tei gloriosus, laudat exercius, Tei gloriosus, Tei gloriosus, Sanctus, Sanctus, Eternum, Ecclesià, Padre, Imensi, Maestatis. Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a Varese, questa è la basilica di San Vittore, e questo è il campanile, il Bernascone, con le sue bellissime otto campane in la bemolle 2, uno dei concerti più belli in Italia. Mi piace pensare che la vigilia di Natale ho ripreso Desio, e la vigilia di Capodanno non posso che riprendere una giusta concorrenza, e, insomma, è proprio una giusta concorrenza, come ho detto. Sono, secondo me, i due concerti forse più belli che abbiamo. Bene, adesso ascolteremo il concerto solenne per la messa con i Vespri, nella solennità della circoncisione di Gesù, perché qui siamo in rito ambrosiano, quindi la messa vigiliare di questa solennità ambrosiana. Bene, io con questo video auguro a tutti i campanari di Youtube che mi seguono un caloroso, bello e soprattutto pieno di riprese, di suonate 2020, ecco, nella speranza che sia un anno di pace per tutti, e che sia ricco di belle soddisfazioni. A presto! 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 Grazie. 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 Grazie.